FAPI Per i propri dipendenti, per informazioni e approfondimenti visita il sito www.fondopmi.it FAPI, la formazione giusta per imprese e lavoratori. Buongiorno e bentrovati. Il tema di cui ci occupiamo oggi è quello dei trasporti. Sono mille gli aspetti che potremo trattare. Cominciamo a parlare del trasporto pubblico, della croce delizia che rappresenta per tutti noi cittadini, utenti e lavoratori. Allora, lo facciamo con Giovanni Luciano, segretario generale della FIT CISL, che è qui con noi in studio. Benvenuto, segretario. Buongiorno, bentrovati a tutti. E mettiamo subito il dito nella piaga. Parliamo di sciopero e di trasporto locale, ma voi lo proponete in una chiave nuova. Avete parlato di sciopero intelligente, lanciate oggi una campagna nazionale di raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal sindacato. Di cosa si tratta? Si tratta di questo. Dopo una lunghissima esperienza, la legge sullo sciopero è datata a 2000, quindi sono 14 anni, da esperti del settore, consentiteci questo. Almeno questo. Ci siamo resi conto, non da oggi, ma da anni, che esiste uno squilibrio palese. Il caso emblematico che ci ha fatto riflettere a lungo, io lanciai un hashtag tempo fa, all'epoca degli ultimi scioperi sul trasporto pubblico locale per il mancato rinnovo del contratto, che diceva appunto hashtag paghino anche loro, mi riferivo alle aziende. Cioè, se ci pensate, quando il sindacato proclama uno sciopero per il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale, ma la stessa cosa vale per i servizi pubblici locali in genere, per le stesse ferrovie, chi hai di fronte, considera che se tu scioperi, paradossalmente ne ha un beneficio, in quanto, rimanendo al trasporto pubblico locale, nella giornata di sciopero consumano meno carburante, pagano meno i dipendenti perché scioperano, e continuano, fatto essenziale, a ricevere i contributi pubblici per il servizio. Di contro, i cittadini li prendiamo in ostaggio, nostro malgrado, e quindi noi paghiamo in termini, ma lo sottolineo questo, paghiamo in termini di impopolarità, un prezzo ingiusto, oltre che altissimo, ingiusto, in più gli stessi lavoratori, se dopo sette anni e tredici scioperi nazionali siamo ancora al punto di partenza, lo dobbiamo a una irresponsabilità impudente delle associazioni datoriali che praticamente ti riudono in faccia, perché tu scioperi e tu hai questo boomerang che ti torna addosso, quindi l'idea è riequilibriamo questa situazione, per riequilibrare questa situazione occorre che lo sciopero proclamato sia un minimo dannoso per l'azienda, non per le persone, per le aziende, quindi la nostra proposta consiste in questo, è una idea di raccolta di firme per la presentazione di una proposta di iniziativa di legge popolare, che modifica un paio di articoli, in un paio di articoli si aggiungono alcune cose nella legge sullo sciopero, che sono per la giornata di sciopero a sostegno del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, nei servizi pubblici locali, quindi anche trasporto pubblico locale, cioè dove le aziende hanno almeno il 50% di sovvenzione, per quella giornata i contributi pubblici non vanno alle aziende, bensì vanno al fondo di solidarietà della categoria. Gli abbonati, i viaggiatori viaggiano gratis nella fascia pendolare garantita, vieni a lavorare, vieni a lavorare con i mezzi, noi garantiamo i mezzi delle fasce garantite pendolari, per quel giorno, in quelle fasce, il viaggio è gratis e i pendolari recuperano con l'abbonamento quando vanno a rinnovare un rateo mensile dell'abbonamento. Se ci pensate, è una proposta banale, ma serve soprattutto per responsabilizzare le controparti e per, l'obiettivo nostro non è penalizzare le aziende, l'obiettivo nostro è recuperare delle relazioni industriali credibili con il fine di evitare drasticamente di dover fare sciopero. Quindi, perciò lo chiamiamo sciopero intelligente, partiamo oggi con una campagna pubblicitaria, devo ringraziare tutte le strutture della CISL, le altre categorie della CISL, adesso non sto a elencarle, si stanno aggregando tutte, di iniziare da AdiConsum a supporto di questa iniziativa, perché appunto noi vogliamo dire alla gente che noi non vogliamo fare sciopero, però non è possibile che ministeri e regioni si girino dall'altra parte da anni e ci sia una situazione, tra l'altro, nel trasporto pubblico locale che meriterebbe, al di là di tanti annunci e poco costrutto, pochi fatti concreti, veramente una riorganizzazione industriale per fare questo bisogna rompere uno schema, quello schema che vede ancora le associazioni ferme, immobili, nelle loro posizioni antiche e redditizie. Ecco, necessità di nuove relazioni industriali, necessità di una politica del trasporto pubblico locale che ormai mostra tutti i limiti, ma sicuramente per i lavoratori ci sono tanti problemi. Tra questi c'è quello della sicurezza, purtroppo c'è un episodio bruttissimo di cronaca che in questi giorni abbiamo vissuto a Roma, un'autista donna aggredita da un gruppo di persone, diciamo, dalle cattive intenzioni, non andiamo a criminalizzare nel genere, ma il dato c'è, erano un gruppo di immigrati. Cosa si deve fare sul fronte della sicurezza per garantire a questi lavoratori il loro diritto ogni giorno a lavorare e a tornare vivi a casa? Noi, innanzitutto, la nostra solidarietà, la collega, sono quotidiane le denunce, le richieste da parte dei sindacati, noi in testa, in tutti i luoghi di lavoro, appunto perché queste cose succedono troppo spesso. Non bisogna aspettare l'episodio clamoroso o rischiare la tragedia come è successo l'altro giorno. Cosa fare? Occorre investire in sicurezza. Cioè, è ora che si entra nell'ordine di idee, che il trasporto pubblico locale dovrebbe essere non un qualcosa di residuale lasciato alla buona volontà di qualcuno in un sistema di gestione che è sotto gli occhi di tutti. Ci sono purtroppo solo pochi casi di buone pratiche in Italia e troppi, troppi esempi di mala gestione, di malgoverno, di sciatteria e di disinteresse. Dovremmo invece entrare nell'ordine di idee di considerare questo settore, lo diciamo da anni, ma al di là degli annunci poi nessuno si muove, perché il problema vero sta che il trasporto pubblico locale, lo voglio denunciare ancora una volta, in mano alle regioni e le regioni, tranne qualcuna, sono quelle che sono. E quindi nessuna riforma nazionale riuscirà a incidere finché non ci sarà delle due l'una, o un riaccentramento forte o una totale responsabilizzazione delle regioni. Non può esserci un federalismo del trasporto pubblico locale dove le risorse le dà lo Stato e le regioni poi fanno la qualunque e poi chiedono i soldi allo Stato. E ci troviamo in una situazione paradossale dove noi vogliamo investire i nostri fondi pensione nell'acquisto di autobus, nel leasing di autobus, siamo resti a farlo e ci stiamo pensando su 3.000 volte perché dovremmo andare a comprare i pullman in Polonia oppure in Francia oppure da un'altra parte perché non c'è ancora un disinteresse totale a una politica industriale a iniziare dai mezzi di trasporto. Potrei dire lo stesso per i treni. Però noi le diciamo queste cose e poi basta qualcuno che cinguetta su Twitter come in questi giorni si parla di altro e andiamo avanti in una situazione che veramente credo che i cittadini non meritino. Ecco, il problema della politica industriale dicevamo l'acquisto dei pullman ricordiamo anche che l'unica fabbrica che costruiva pullman in Italia l'Irisbus in provincia di Avellino è stata chiusa quindi siamo di fronte al paradosso c'è una domanda ma non riusciamo a soddisfarla con le nostre risorse ma dobbiamo andare all'estero anche questo è un aspetto veramente paradossale. Luciano sarebbero tantissime le cose da dire sul trasporto pubblico locale però vogliamo toccare anche un altro aspetto la vostra azione sindacale è di ampissimo raggio non possiamo non parlare della vertenza del trasporto aereo. Cominciamo con Alitalia a che punto siamo? La trattativa con Etihad è andata finalmente in porto potremmo rimanere nella metafora dei trasporti ma a quale prezzo? Allora rispondo velocissimamente comunque a tutti chiediamo l'appoggio a questa campagna www.shopolintelligente.it la vedrete anche pubblicizzata domani usciamo sui quotidiani alla fine all'Italia all'Italia sinteticamente noi abbiamo portato la croce gli altri hanno cantato e stanno cantando come avevamo facilmente pronosticato sta andando discretamente nel senso che si è consolidata l'alleanza adesso siamo tutti in attesa del semaforo verde da Bruxelles sul versante lavoro sono usciti volontariamente rispetto agli incentivi 470 persone stiamo predisponendo tutto quello che serve per la tutela di tutti di tutti anche quelli che andranno in mobilità ma stiamo lavorando per lo slittamento di ulteriori due anni confidiamo molto nel rilancio di quell'azienda rispetto ai connotati che aveva siamo molto preoccupati anzi veramente per certi versi anche disgustati dalla vicenda meridiana ecco questo è l'altro fronte che si è aperto vertenziale ricordiamo rapidamente meridiana ha lanciato un numero di subri due battute con i numeri allora l'Italia è stato un parossistico aspetto mediatico per 2251 subri su 13500 addetti qui siamo a 1600 subri su 1742 quindi stiamo parlando di una chiusura di fatto al che uno potrebbe dirmi purtroppo le fabbriche chiudono sì qui c'è un piccolo particolare che qualcuno sta chiudendo quella fabbrica quindi il marchio meridiana tiene in piedi solo alcuni aerei per la continuità territoriale perché è finanziata dallo Stato parallelamente sta predisponendo invece la trasferimento delle sue attività in Air Italy che è la compagnia del gruppo meridiana praticamente una bad company e new company per far capire un po' il gioco all'interno dello stesso gruppo qual è la differenza? la differenza è che un lavoratore meridiana ha un contratto di un certo tipo con alcuni trattamenti di un certo tipo posso anche essere il primo a dire che forse andrebbero rivisti tant'è vero che se applicassero il contratto che abbiamo fatto noi quell'azienda starebbe in piedi molto meglio altra cosa è contratti di tipo veramente al limite del banditismo per quanto riguarda l'altra compagnia quindi noi andiamo a giocare una partita bruttissima che non ha i connotati di Air Italy perché in Air Italy c'era un altro investitore c'era da fare alcune operazioni per poter rilanciare in prospettiva di sviluppo qui è un'operazione tra l'altro tutta concentrata la maggior parte degli esubri sono tutti in un territorio della Sardegna che già come regione ha i suoi problemi concentrati tutti nella Gallura nella zona di Olbi ci sono riflessi anche a Verona anche in altre basi ma è una partita noi stasera chiederemo il ritiro della mobilità anzi Meridiano è domani sera chiederemo il ritiro della mobilità per aprire una discussione che tenda a trovare una via di uscita e di ripresa essendo i primi consci che occorre modificare alcune cose sotto il versante delle norme di impiego in quell'azienda altra cosa è questa brutale chiusura mascherata da licenziamenti perché 1600 su 1742 altro non è che una chiusura dopodiché tu sei lo stesso gruppo che ha un altro marchio che invece non chiude anzi fa altro e quindi dovremmo compatibilizzare non può essere che lo Stato si accolla ancora una volta la collettività 1600 persone in mobilità e da un'altra parte magari si assume questi giochi dovrebbero finire i primi a farli finire dovrebbero essere quelli del governo ministero del lavoro in testa un governo che ha chiamato a gestire una politica industriale che nel paese non c'è ancora un caso che lo dimostra ancora un'avvertenza NTV trasporto questa volta ferroviario cosa succede ci sono tanti rumors come vi state preparando ad affrontare quello che ancora non è stato ufficializzato ma è noto si parla di 300 esuberi beh gli esuberi non sono stati ancora al di là di un articolo in giornale non sono stati ancora quantificati ufficialmente è noto almeno dalla stampa delle polemiche che NTV ha rilanciato sul grado di liberalizzazione in Italia che c'è questo problema sono veramente colpito da questa vicenda perché ricordo non più tardi due anni fa facciamo un accordo contrattuale con NTV dandogli condizioni di start up piani di sviluppo e sono veramente profondamente dispiaciuto del fatto che lì rischiamo veramente di arrivare a vicino al 30% di forza lavoro che rischia di uscire da quell'azienda è forza lavoro voglio ricordare selezionatissima molto preparata e con un'età media che credo sia giro intorno ai 26-28 anni quindi è veramente il paradosso di un'Italia che anche sui processi di di nuovo business o di successo come è stata l'alta velocità in Italia riesce con questo inseguire l'idea che dare il servizio di business al prezzo del low cost chissà cosa comporti riesca poi a ribaltare i costi sociali sulla fiscalità generale perché scusate vi sembra normale che per andare da Roma a Milano con l'autostrada si paghino 38 euro solo di pedaggio autostradale e poi uno possa andare con un treno ad alta velocità con quello che costa con quello che costa in termini di costo delle tracce di costo del personale di investimento dei treni e quant'altro a 16 euro saranno contenti i consumatori sono contento anch'io peccato che dovremmo fare tutti una riflessione che questa guerra a stracciare i prezzi ci sta distruggendo ovunque perché poi i costi sociali li paghiamo da un'altra parte li paghiamo con mobilità cassa integrazione soldi che non ci sono per sostenere veramente occorrerebbe cambiare verso ma non con le ghiacchiere ma mettendo con coraggio le mani nelle cose serie dopodiché spero di sbagliarmi e spero che in NTV si trovi il modo tra ricapitalizzazione che serve assolutamente e riorganizzazione interna di fare un periodo per poi vedere di nuovo un rilancio ecco un augurio che facciamo tutti segretario siamo in chiusura lanciamo l'appello per aderire a questa nuova campagna lo sciopero intelligente lanciato dalla FIT CIS l'abbiamo ricordato un sito vogliamo ridare ancora gli elementi sì gli elementi sono aiutateci a sostenere il fatto che le aziende debbono poter perdere economicamente e quindi entrare in campo rispetto a avvertenze con un atteggiamento costruttivo lo stesso presidente della commissione di garanzia ha denunciato nella sua relazione del primo luglio scorso che il comportamento disinvolto delle aziende viva Dio se ne è accorto persino lui produce gli scioperi quindi noi non vogliamo fare gli scioperi assolutamente però abbiamo bisogno di controparti responsabili di fronte quindi non è giusto che prendano e non è giusto che i viaggiatori durante la giornata di sciopero nelle fasce pendolari che continueremo a garantire siamo disponibili persino ad aumentarle ad allargarle viaggino gratis perché ripeto il bersaglio non sono i cittadini assolutamente noi dobbiamo dirlo con forza confesso ringrazio tutta la CISL che ci sta dando una mano in tutti i suoi avverto atteggiamenti ostili da parte di altre sigle sindacali le quali pensano che rimanere immobili agli inizi del novecento sia la ricetta giusta noi pensiamo di no allora ringraziamo Giovanni Luciano per essere stati con noi vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo il sito www.fit.it grazie e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti